Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova reaction dove reagiremo al trailer, guardate il titolo, il trailer della leone che stavolta esce ufficialmente ad agosto nelle sale cinematografici. Ho già portato delle reaction in precedenza e quindi le reaction fake, ovviamente che la prima non si ipotizzava dovessi uscire questo film, capolavoro, aggiungerai il film preferito. E invece oggi siamo qua con il terzo e quarto trailer della leone su fila d'agosto, tra l'altro mi sentite in attento, non ho di voce, non ho di voce sto registrando, sto registrando e vediamo. Wow ragazzi, ma c'è un'emozione, come tanto tempo fa Disney, non si vede nulla questo film, io non vedo nulla ragazzi, voi ci vedete. Eccoli, eccoli Timon, Pumba e Simba, ecco, le viene, le viene, le viene, le viene, lì sono ragazzi, guardate quello, guardate quello che bello. Io ho sentito, agosto ve lo esce, è già uscito, no, è già uscito, ho sentito che usciva l'agosto, no, troppo ragazzi che c'è, non più come, come cartone di macchia, capito come film, chi sono questi? Aiuto! Timon, perché questi tizzi, andate via, andate via, no, ecco qua Nara e Simba, Vabbè, vabbè, questi tizzi, andate via, sono quelle che dà una voce, questi tizzi a salafi, mi ricordo questa scena ragazzi, bellissimo, ecco le viene, la fichi, il muore, no, che bello, lì lì lì, il combattimento tra la scala e Simba, Eccoli qua i nostri amici, timone e pomba, e la fichi, ma quanto è bello la fichi ragazzi, troppo, troppo di, mi ricordo lì, all'inizio del film, Mentre, c'è anche se ci scena famiglia, ciao, 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 ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao, 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 ciao! Ragazzi, c'è un altro trailer da vedere, il quarto, il terzo, il quarto, questo è il terzo, andiamo aderci il quarto, dai! metto in pausa torno tra poco ragazzi se anche io mi scuso ma trovato una nuova riuscire all'avione che aveva fatto quindi facciamo insieme quasi una simba in fase che guardano le stelle dove simba rischietta la vita poco poco prima giangol bu che non ho capito cosa vuol dire giangol bu cioè so cosa vuol dire ma non c'è anche assolutamente nudo giangol bu non vuol dire la lingua della giungla giangol è giangol è giangol è giunga cosa mi vuol dire questo terryon king bellissima è già finito cioè no 9 0 che perché sennò che te con l'altra scena che l'altro abbiamo visto prima nemmeno questo che sta andando nella terra di nessuno giangolino esatto è detto mi sto registrando ragazzi un colpo si vado a vedere bellissima questa questa scena qua c'era quella specie di coriottero che simba voleva catturare ma cos'era quella scritta come la legge come il libro della giungla ma cos'è boh il libro della giungla ce la sono ad agosto vedete il libro della giungla boh scusate ma cosa significa il libro della giungla con un raveone forse quelli che abbiamo visti prima erano erano degli animati della giungla farà io a leone guardate questa che bella scena bomba di non 21 agosto vedete avevo ragione avevo ragione niente ragazzi stavolta è saluta sul serio se non trovo altri reaction sì ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti